no 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 ragazzi no 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 anche l'indiano non potevano regalare pezzi non potevano regalare pezzi incredibile che puntata oggi tutti hanno regalato pezzi salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio sulla scalata su chess.com vediamo cosa ci riserva la giornata oggi 1638 benissimo ha giocato l'inglese io provo a giocare un sistema est indiano quindi con cavallo f6 g6 alfiere g7 e poi arrocco però dipende vediamo perché lui qui già minaccia e5 quindi facciamo prima d6 ok perfetto siamo rientrati in un est indiana molto bene vediamo un attimino ci sta già pensando molto strano ok invece ha fatto cavallo f3 giusto siamo rientrati in pieno nell'est indiana quindi giocherò la variante con cavallo a6 quella che è presente è riservata agli abbonati su lices quindi arrocco corto si gioca e5 le partite a 10 minuti effettivamente sono buone per poterle commentare però durano veramente parecchio tempo ok questa è una variante di spinta insomma mi lascia la casa c5 attacchiamo subito il pedone in e4 qui forse la migliore è donna c2 per difendere e4 a cui segue a5 ok vediamo un attimo cosa gioca all'avversario ora a5 serve a impedire b4 perché il piano del bianco soprattutto in questa posizione è quello di cercare di spingere i pedoni sul lato di donna per acquisire spazio sul lato di donna ok qui è interessante stavo già pensando a cavallo per e4 ma seguirebbe cavallo per e4 cavallo per e4 donna per e4 poi avevo pensato a una cosa simile ad esempio al fiero f5 il problema è che c'è donna h4 che è difesa dal cavallo quindi lui proporrà il cambio di donne e praticamente non ottengo nulla sarebbe stato molto interessante invece non so facciamo cavallo d7 cavallo d7 per fare subito f5 possibilmente vediamo ok questa è interessante perché vuole fare comunque b4 il bianco quindi bella idea mi piace a questo punto però facciamo a4 quindi su a4 impediamo b4 perché in caso di b4 seguirebbe pedone per quindi niente ancora provo a giocare f5 che è una spinta di rottura nell'est indiana per acquistare un po' di spazio sul lato di re e vediamo cosa fa l'avversario partita interessante partita strategica per giocare l'est indiana bisogna essere veramente molto bravi a gestire la struttura pedonale a gestire gli attacchi sul lato di re perché di solito ce ne sono tanti e anche a difendersi sul lato di donna no qui che ho fatto oddio meno male stavo cliccando a caso meno male che questa mossa non compromette la posizione potevo giocare tranquillamente f5 stavo solo facendo vedere selezionando le caselle invece è stato mosso proprio il pedone così a caso e vabbè lui qui mette una certa pressione sul pedone in c7 quindi dovrò stare un po' attento diciamo ma f5 non ce la toglie nessuno da qui penso c'è da fare un po' di attenzione effettivamente perché potrebbe arrivare al fiere g5 per cercare di deviare la donna e poi giocare cavallo c7 una cosa del genere vediamo ci sta pensando ok cavallo d2 ha fatto benissimo allora f5 ora ora o mai più f5 per fare anche f4 potrebbe essere un'idea giocare poi f4 come prima partita non mi sembra male però va anche detto che su chess.com gli avversari spesso mi hanno sorpreso per la loro bravura a bassi punteggi devo dire questo succede a 10 minuti a 3 o a 5 di solito no invece a 10 minuti pensavo fosse più facile salire ma evidentemente mi sbagliavo ok apriamo la colonna g finalmente si riesce a fare qualcosa forse re h8 poi dopo torre g8 o comunque un piano per il futuro potrebbe essere questo il problema è questo pedone in c7 ora facciamo qualcosa tipo torre f7 per difenderlo oppure alfiere a6 per catturare insomma una qualche idea ce la facciamo venire ma si proviamo a spingere perché devo aprire proviamo a crearci un pedone passato questo alfiere ora è diventato fortissimo mi ha lasciato anche la torre in questo modo pazzesco pazzesco intanto facciamo en passant e niente questa torre andrebbe catturata oppure troppo rischioso ma ma si dai io lo farei vediamo che succede io lo faccio catturo catturo qui attacco la donna perché comunque vorrei tanto che lui catturasse il mio cavallo poiché ora ho le case scure deboli quindi attacco la donna bisogna stare un po' attenti eh perché se mi entra in h8 sono finito praticamente no ragazzi ragazzi non ci può c'è solo a me succedono queste cose vai partite con i commenti però effettivamente è incredibile ciò che è successo è incredibile aveva tutto il tempo ma cosa è successo ha perso il capo non ci posso credere non ci posso credere mamma mia mamma mia mamma mia ok ha abbandonato nuovo avversario dai non perdiamo tempo 1732 proviamo un black mardimer contro un 1732 giusto per vedere cosa succede a questi livelli vediamo i suoi altri punteggi questi comunque non vanno sottovalutati ok altri punteggi non mi dicono nulla effettivamente ha scelto questa variante qui si gioca cavallo e 2 su pedone per donna per vediamo un po' invece ha fatto cavallo cavallo c6 ma che mossa strana cavallo c6 eh eh non lo so cosa fare qua di 5 quasi quasi ma si d5 vai lui che fa cavallo e7 blocca comunque l'alfiere eh eh quindi di già la partita si fa molto interessante ero indeciso se fare cavallo per e4 oppure d5 però d5 mi sembra ok come mossa no? non mi sembra male bene 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 però come continuo come continuo non lo so cavallo g3 lui fa f5 alfiere g5 ma mi sa che non ottengo nulla comunque eh 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 abbiamo un pedone in meno speriamo di riuscire a combinare qualcosa vabbè dai uno scacco qui non ce lo toglie nessuno check vediamo se fa alfiere d7 uh addirittura allora alfiere c4 non minaccio la spinta per guadagnare un pezzo attenzione attenzione ma come giocano questi ma come giocano questi avversari ragazzi non ci credo veramente non ci credo assurdo veramente assurdo proviamo ad arroccare vai arrocco poi gioco f3 ok ci sta? f3 oppure f4 direttamente forse f4 direttamente forse meglio partita interessante però questo blocco di pedoni qui mi dà parecchio fastidio effettivamente ok mi ha fatto sviluppare un altro pezzo questo non è male lui ha già mosso il re quindi io penso che la sua posizione sia un disastro un disastro completo ok qui tra l'altro e stanno per arrivare queste mosse insomma eh anzi facciamolo subito no abbandon- bella vittoria in rimonta addirittura mi dice ma abbandonato ragazzi non ci credo cioè alfere g7 donna d4 ed effettivamente penso questa sia da abbandono però mamma mia che massacro forse è la prima puntata in cui ci va così liscia la situazione mamma mia mamma mia ok 1678 allora oggi niente dragone andiamo con e5 vediamo lui ah interessante ah ancora più interessante ok ha fatto c3 il gambetto the danish gambit non lo so facciamo d5 donna donna per d4 ha fatto ok facciamo cavallo f6 sviluppiamo un pezzo approfittiamone per sviluppare un pezzo non lo so eh penso comunque di stare già abbastanza bene in questa posizione poi magari mi sbaglio però visto che c'è il pedone in c3 forse qualcosa la dovrei avere ma non ne sono sicuro questa è una buona mossa questa eh cioè se io qua catturo perché siamo a pedoni pari capite vedete che non so giocare il gambetto danese quindi potrebbe essere pericoloso per uno che non lo conosce perché ad esempio io da nero cioè mai studiata sta roba quindi effettivamente può risultare pericolosa ok eh qua che faccio boh facciamo un alfiere a7 dai sviluppiamo un pezzo sviluppiamo un pezzo eh che ce vuoi fare che ce vuoi fare che ce vuoi fare però qui no qui basta cambiare basta basta pedone in meno ok lui voleva regalarmi un pedone in apertura invece sono stato io quello a dargli un pedone ho detto no grazie te lo regalo io se vuoi 1678 ok vediamo intanto oggi devo assolutamente superare i 1700 qui a Rocco poi forse torri di 8 insomma per il pedone dovrei avere un buon compenso se non mi sbaglio eh dovrei avere un compenso più che sufficiente più che sufficiente torri di 8 guadagno un tempo sulla donna poi forse non lo so poi che si fa facciamo questa vai cavallo c6 lui forse a Rocca lungo non lo so io ho anche la coppia degli alfieri potrebbe servire potrebbe essere utile quindi diciamo che la posizione non mi dispiace ho un pedone in meno ma la posizione non mi dispiace ho già messo il real sicuro di cosa ci preoccupiamo interessante interessante facciamo a5 lui ha Rocco io ho a4 lui dona c2 io ho a3 non so se funziona ci proviamo vediamo se fa dona c2 ok a regola esatto doveva fare dona c2 a2 a2 tocca a lui certo questo pedone dà parecchio fastidio se non ci fosse sarebbe meglio però c'è è lì presente presente come vedete giocare con materiale in meno non è per niente facile a meno che non si abbia l'iniziativa e io in questa partita non ho l'iniziativa diciamo mi sono accontentato troppo nelle prime due partite che sono finite subito questa partita invece si fa molto seria molto interessante qui errore clamoroso non ho capito che stia combinando l'avversario però va bene insomma se se secondo lui va bene così chi sono io per dire che non va bene facciamo b6 perché lui è dall'inizio della partita che punta gli occhi sulla casa b7 ma ora gliel'abbiamo fatto sparire il pedone da b7 penso che non li punterà più no comunque questo alfiere ora è abbastanza pericoloso dovrebbe iniziare a giocare torre c1 donna c2 cose del genere lui però io sono anche pronto ad attaccare l'altro pedone anzi forse già dovevo farlo vediamo epic game freddo questa che bandiera è georgia ok vediamo ci sta pensando center game accepted danish gambit declined gambetto danese rifiutato effettivamente era meglio se lo accettavo e poi dopo giocavo di 5 avrei avuto almeno un pedone in più eh 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 è quell'altra la variante migliore non questa che ha fatto vabbè non stiamo tranquilli mi dovrebbe preoccupare questa no take it easy 7 minute e 20 a 4 interessante a 4 allora ok al fiere b7 cosa cosa vabbè catturo mi ha ridato indietro il pedone non ho capito perché ma così proprio netto senza neanche fare torre 1 ma guarda io ti ringrazio eh eh gentilissimo ora ha i pezzi puntati addosso a parte il cavallo in a5 che comunque ottimo ruolo difensivo ma gli altri pezzi cioè qui sto meglio ora sto già meglio mi ha ridato indietro tutto il vantaggio che aveva questo alfiere glielo diamo volentieri e ora e ora che fa che fa il nostro amico che fa no 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 perché mi fanno questo ma come fai ad abbandonare in una posizione del genere cioè o vedono il mio punteggio o cosa vedono qua perché hanno abbandonato ragazzi ma perché cioè troppo gentili oggi veramente non ho parole sei stato in vantaggio dall'inizio alla fine addirittura cioè anche quando avevo un pedone in meno era in vantaggio vabbè ragazzi cioè non ci posso credere va bene va bene dai ci fidiamo di lui ok attenzione c'è l'indiano attenzione c'è l'indiano stavolta andiamo con il dragone vabbè ma che episodio è questo ma che episodio è questo cioè tutti paura tutti hanno paura oggi mamma mia pazzesco pazzesco ragazzi veramente clamoroso 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 vai regaliamo un pedone voglio vedere che succede questo regalando un pedone perché poi tanto l'idea è quella di fare cavallo b4 però mi sento troppo in forma troppo bello giocare così vedete che vincere aiuta perdere ok fa bene a volte per migliorare però vincere fa più bene ancora l'essere umano non è fatto per perdere è fatto per vincere per essere premiato ok qui niente ho dato il pedone per aprire il centro perché se no poi durano troppo le partite invece se apriamo subito il centro ci sono più possibilità di ritrovarsi in posizioni tattiche e vediamo un po' vediamo un po' però oggi è clamoroso dai l'indiano resiste l'indiano resiste ragazzi resiste con i denti quindi g5 la devo fare g5 perché lui poteva fare a3 anzi la può fare a3 volendo lui gioca a3 io catturo lui cattura io catturo lui sposta il cavallo io mangio lui lo so mangia di questo pedone forse no niente di tutto ciò bene siamo più contenti così facciamo h6 anche se forse c'era già la cattura perché c'era la donna che difendeva però forse troppo rischioso troppo troppo rischioso cioè da un certo punto di vista gli scacchi sono semplici in realtà sono uno dei giochi di strategia più complicati al mondo però a primo impatto così basta sviluppare i pezzi poi ci pensa l'avversario insomma ad abbandonare no vabbè dai sto scherzando ok qui la mia posizione mi piace assai lui ha il pedone isolato vediamo se cattura no niente eh questa non è male come mossa mi piace mi piace come idea va bene dai catturo non so se ho fatto bene perché sto il mio re ora è molto esposto però 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 vediamo mangia di torre cattura di torre penso avrà paura a prendere d'alfiere o forse prende proprio d'alfiere boh non mi devo dimenticare che questo è un indiano gli indiani giocano tutti bene a scacchi mai visto un indiano che giochi male a scacchi quindi mi ha giocato l'inglese simmetrica variante bodvinnik esatto ha preso di torre allora torre b8 mi sa che è un po' d'obbligo puoi fare b6 alfiere 6 oppure alfiere b7 ora vediamo questa partita si fa molto interessante molto interessante tra l'altro con la torre in f4 ha anche queste idee anche di queste idee intanto ho superato i 1700 meno male meno male che questa serie se no è infinita quando è che arriviamo a livello avanzato cioè ragazzi qui è un casino nelle scorse puntate salivo veramente in maniera molto lenta perché insomma se la cavavano bene se la cavavano benissimo questa alfiere mi dà parecchio fastidio vi dico la verità lo farei fuori sì lo farei fuori così tipo anche se poi mi ritroverei con l'alfiere che difende lui ha l'alfiere che attacca però per ora ha un po' di problemini qua dovrà perdere diversi tempi penso tipo torre b1 b4 una cosa del genere potrebbe fare potrebbe ah ora capisco perché ha fatto questa o forse no ha avuto paura di c4 non lo so non lo so vediamo 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 ma qui è l'indiano ci pensa ragazzi questo ci pensa almeno 30 secondi a mossa ci pensa e fa bene ma di questo passo farà un massimo di altre 12 mosse quindi o è un genio che la chiude in 12 mosse oppure ciao ciao adios certo questa potrebbe essere anche un'idea ora no però boh 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 ma si dai facciamo alfiere 6 facciamo alfiere 6 vediamo lui dove vuole arrivare qui ci ho pensato tanto anch'io invece ha fatto b3 per fare alfiere b2 allora vuoi fare questo dimmi la verità wow 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 incredibile alfiere b2 catturo mi entra ragazzi devo stare attento che questo mi entra dobbiamo dare scacco scacco re dove dove lo mette il re forse fa re f1 mi sa che sto peggio qua no non ha fatto il re f1 f5 è così distinto f5 distinto perché tanto lui gioca alfiere b2 eh si è eh si è ma qui no 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 non ci sta dai non posso andare a rischiare inutilmente torniamo si torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro ora questo pedone qui è esposto ragazzi cioè un bel problemino sì un bel problemino vabbè io catturo di re e poi gioco torre d8 forza forza ho il re più esposto del suo quindi sto rischiando di più io probabilmente non lo so anche se la partita sembrerebbe pari però abbiamo trovato un avversario vedete che si impegna è bravo non sbaglia e non lascia pezzi in presa come facevano gli altri eh questo è importante Victor forza Victor ok vabbè Victor ci pensa Victor ci pensa si sa che presto avrà problemi di tempo che cavolo ha fatto l'alfiere per g7 quella che doveva fare quindi re cattura ci ha pensato un minuto e un secondo per fare l'alfiere per g7 buono 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 ok avevamo detto torre d8 perchè no facciamola subito per attaccare lui che fa eh 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 Victor cosa fai qua c'è il pedone sotto eh perdi un pedone eh che fa mi darebbe più 8 questa partita quindi Andrea 1712 eh non male 1712 siamo alla se non mi sbaglio sesta puntata a livello intermedio oddio chissà se riesco ad arrivare almeno a 1800 poi chiamiamolo livello avanzato non lo so fino a 2000 da 1800 a 2000 anche se in realtà forse dovrei arrivare fino per l'intermedio forse fino a 1900 vabbè ora vediamo insomma perché dopo il livello avanzato c'è il livello maestro eh cioè ragazzi e vabbè non ci posso credere me l'ha dato con estrema facilità con estrema facilità mi ha dato il pedone grande per dare questo scacco cioè ha fatto tutto ciò per dare sto scacco bene 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 va bene così va bene così e ora non può mica spostare la donna eh cioè si becca subito matto quindi non può ve l'avevo detto io altre 12 mosse massimo se continua così lui sembra stia continuando così qui questo come la valutiamo sta mossa secondo me è un errore tanto se catturo lui cattura io catturo lui viene su non ottengo niente diciamo però se faccio questa si qualcosa dovrò ottenere attacco si ok volevo dire attacco attacco quindi così attacchiamo la torre bene lui può riprendere indietro il pedone questo lo può fare questo si questo lo può fare ma ho 3 pedoni contro 1 3 pedoni contro 1 ragazzi eh so perché mi viene in mente questa avanzare il re per metterlo su casa scura torre 5 e re f6 ok poi questo è pronto ad avanzare ok re f6 avevo detto secondo me va bene non vedo rischi forse torre h5 è il problema di re f6 devo tornare indietro poi lui gioca torre 5 di nuovo no 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 niente di tutto ciò che dico che di ma ha sentito un po' sarà patta non lo so ma qui io cambio anche gli alfieri anche se gli faccio guadagnare un tempo con re non mi piace sta cosa no no non mi piace sta cosa guadagna un tempo si vabbè ma a me che mi frega io spingo il pedone intanto l'alfiere è inchiodato gli dico se vuoi cambiare le torri pensaci tu cioè se vuoi cambiare gli alfieri pensaci tu gli sto dicendo ok consolidiamo la posizione dovrebbe arrivare il cambio tra poco niente allora cambio io cambio io cambio io tranquillo ah di torre ma si andiamo verso l'alto verso l'alto vogliamo il reattivo ragazzi vogliamo il reattivo vai così vai così vai così guardate il mio re dov'è eh si ciao 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 che voleva fare non ho capito spingiamo questo pedone è a due passi dalla promozione incredibile incredibile no 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 ragazzi no 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 anche l'indiano non potevano regalare pezzi non potevano regalare pezzi incredibile che puntata oggi tutti hanno regalato pezzi si è scritto Victoru abbandona ah forse lo mette il sito 5 errori ho fatto bella vittoria in rimonta addirittura eh vabbè bene io direi per oggi basta grazie a tutti per la visione di questo video ricordatevi di mettere mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti